Mazzacara nel Tg la denuncia di una disabile a causa di alcune voragini nell'asfalto di fronte alla sua abitazione la donna non può più uscire in carrozzina. Iglesias, nuovo arresto per maltrattamenti in famiglia. Ieri sera gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza hanno tratto in arresto un uomo di 29 anni con l'accusa di aver minacciato la moglie con un coltello da cucina. La CGL scrive al neopresidente Cristian Solinas la missiva è stata scritta indirizzata al presidente della regione per chiedere l'avvio di un dialogo sui temi della metanizzazione del rilancio del comparto edilizio. Resto al sud, sono 21 le domande nel sulcis. A oltre un anno dall'indizione del bando sono centinaia le richieste di finanziamento per la creazione di nuove attività imprenditoriali avanzate in ambito regionale. Bene, ritrovati su Canale 40, la cronaca in apertura di questo telegiornale è un dramma. La notte scorsa ha scosso la cittadina di Portoscuso, una quindicenne originaria di Carbonia, è deceduta dopo essersi lanciata dal balcone della propria abitazione dove viveva con la madre. Ancora non si conoscono i motivi di questo tragico gesto. Andiamo avanti e voltiamo pagina. Questa mattina siamo andati con le nostre telecamere nella frazione di Mazzaccara a San Giovanni di Suergio per documentare la denuncia di una donna obbligata da tempo a circolare in carrozzina che purtroppo non può più transitare nella strada di fronte alla propria abitazione a causa di alcune importanti voragini nell'asfalto. Vediamo le interviste che ha realizzato per noi Manolo Murettu. Oggi siamo a Mazzaccara per raccontarvi una storia un po' paradossale, ovvero le difficoltà della signora Rosanna De Sì che in qualche modo è rinchiusa dentro casa sua e non può uscire con la propria carrozzina. La signora Rosanna purtroppo ha problemi di deambulazione, da molto tempo non può camminare e per spostarsi deve utilizzare questo dispositivo. Però c'è un problema. Fuori dalla sua casa ci sono delle voragini, ci sono delle porzioni di terreno e di strada che sono sconnesse e che non permettono il suo transito con questa carrozzina e quindi neanche la possibilità per quanto le riguarda di potersi ad esempio avvicinare a casa dei vicini, delle persone che abitano vicino a lei. Possiamo camminare, signora Rosanna, anche per mostrare le sue difficoltà uscendo da casa. E ancora qua vediamo che questo piccolo pezzo di strada è superabile, ma se poi ci avviciniamo da questa parte vediamo che qui le voragini sono molto molto più profonde. Signora Rosanna, questa cosa voi l'avete denunciata più volte? Sì, tante volte, sì. È più di un anno che stiamo andando in comune noi. Mi dicono provvederemo, vengono, guardano e vanno via. Come possiamo vedere qui, venga ancora un po' avanti, la mantengo io per evitare che poi la carrozzina si possa in qualche modo ribaltare. Come potete vedere qui, insomma questa voragine non permette agevolmente di transitare. E oggi è che non ha piovuto e è asciutto. Quando piove qua c'è un, non so, un lago, un disastro, non so, non si può camminare niente, neanche con gli stivalli. Quindi quando piove è proprio impossibile transitare con questa carrozzina? È impossibile, ormai si vede di come tutto messo la strada, tutto malfatta, si vede che l'hanno, non lo so. Signora Rosanna, se lei vuole andare a trovare la sua vicina qui a fianco, non lo può fare? No, non posso andare. Io ho la casa mazzacra, solo che c'erano dei gradini e non potevo uscire. Ho fatto con sacrifici questa casetta qua, ho pagato tutte le cose che c'erano da pagare e sono prigioniere allo stesso. Ma voi pagate le tasse? Certo, certo, tutto. Noi paghiamo tutto. Pago immondezza, pago corrente, ho pagato buccalossi, addirittura pago per seconda casa. Quindi chiedete che la zona sia urbanizzata e che le strade vengano ripristinate, vengono messe in sicurezza? Certo, io voglio i miei diritti, io ho diritto di uscire e di prendere, già che sono, prendo le pastiglie per la depressione. Perciò se io continuo a stare a casa, che fine farò? Le chiediamo ancora di transitare qua. Come potete vedere, io sto camminando a fianco alla signora. Insomma, questo tratto di strada non è percorribile, è pericoloso. E intanto qui dietro c'è il signor Eufemio, c'è il signor Eufemio che sta spingendo e mantenendo la carrozzina in sicurezza, equilibrata. Ma se la signora fosse da sola non lo potrebbe fare? No, 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 sicuramente non ce la fa a farlo. No, perché la strada è impossibile, è impossibile a circolare con la carrozzina specialmente, non si può. Cosa chiede al comune di San Giovanni Suergio? Chiedo solo che vengano a giustarmi la strada, non chiedo altro. Non ho mai chiesto niente, almeno quello di venire a giustare questi buchi per poter uscire e prendere un po' d'aria. Cara amministrazione, chiaramente non c'è bisogno di grandi interventi di rifacimento della strada. Si potrebbe anche inizialmente mettere in sicurezza e poi si potrebbe allestire un progetto, un programma per poterla ripristinare nella sua totalità. Chiaramente questa è una strada che non è percorribile, danneggia le auto, danneggia le sospensioni delle automobili. Non rappresenta certo una strada dove si può transitare in sicurezza, ma per la signora Rosanna significa purtroppo non potersi spostare, rimanere in qualche modo imprigionata anche dentro la propria abitazione. L'aspetto maggiormente preoccupante di questa vicenda è quello che se un giorno il signore Eufemio non dovesse essere presente qui e la signora Rosanna dovesse avere problemi, difficoltà, dovesse sentirsi anche male, sarebbe obbligata a spostarsi con il suo dispositivo, con la carrozzina da sola e questo pezzo di strada non lo potrebbe superare. Quindi questa situazione, questo tratto di strada disconnesso, questa denuncia ha anche una rilevanza di carattere sociale e umana e quindi è un qualcosa da prendere in forte considerazione perché ne va anche della salute e della sicurezza della signora. Valentina Cucco, consigliere comunale nel comune di San Giovanni su Ergiu, è anche una rappresentante delle istanze, delle rivendicazioni, un po' delle esigenze e dei bisogni della frazione di Mazzacara. Da tempo denunci la situazione delle strade e in particolare anche la situazione di questa strada? Assolutamente, sì, noi anche come gruppo consigliere d'opposizione abbiamo più volte denunciato anche in consiglio comunale la situazione di tutte le strade del comune di San Giovanni su Ergiu, non solo quella di Mazzacara, perché comunque tutto il comune è in una situazione veramente critica. Certo, questo caso è emblematico perché comunque denuncia una situazione grave dove c'è una signora che ha bisogno di deambulare in assoluta tranquillità e non può farlo. Io lo stesso ho più volte sollecitato l'amministrazione ad intervenire, anche perché comunque la signora potrebbe benissimo con la sua carrozzina arrivare in paese in tutta tranquillità. Questo non può avvenire proprio perché non può deambulare a causa di questa enorme voragine e quindi è quasi una discriminante anche nei suoi confronti. E ancora la cronaca, ieri sera gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Iglesias hanno arrestato un 29enne del posto per i reati di danneggiamento e maltrattamenti in famiglia. L'uomo, pluripregiudicato per reati specifici, è stato bloccato dopo un'animata discussione con la moglie, avver dato in escandescenza rompendo numerosi suppelletti e sfondando una porta. Nel proseguo della lite l'uomo avrebbe minacciato la consorte con un grosso coltello da cucina e poi si sarebbe allontanato minacciando la donna e urlando che sarebbe tornato più tardi per tagliarle la testa. In considerazione della gravità dei fatti, del pericolo incombente per la moglie e delle precedenti segnalazioni, gli agenti lo hanno arrestato e condotto presso il carcere di Utta dove è stato preso in custodia. A pochi giorni dalla conclusione delle elezioni regionali e la vittoria del centro-destra, la CGL della Sardegna sud-occidentale ha spedito una missiva al neoletto presidente Cristian Solinas per chiedere l'avvio di un dialogo sociale sui temi della metanizzazione e del rilancio del settore delle costruzioni. Vediamo. Nemmeno insediato e proclamato ufficialmente il nuovo consiglio regionale e creata la giunta e subito le organizzazioni sindacali in ambito regionale e ora locale tramite una nota diramata nella giornata di ieri dalla CGL hanno già sollecitato il neopresidente della regione Cristian Solinas ad affrontare e risolvere tutti i principali problemi e le questioni dell'economia lasciati irrisolti o incompiuti negli ultimi cinque anni di amministrazione di centro-sinistra. In particolare la nota della Camera del Lavoro della Sardegna sud-occidentale, affirma Antonello Congiu, ha posto l'accento sulla necessità di concretizzare il piano di metanizzazione dell'isola allo scopo di favorire la transizione energetica della Sardegna dalle fonti fossili a quelle rinnovabili tramite la decarbonizzazione nel modo più indolore possibile per il settore industriale. Ma anche sulla necessità di potenziare il piano Lavoras con la creazione di nuovo lavoro e in generale per introdurre interventi a favore del settore delle costruzioni che negli ultimi anni ha perso oltre 300.000 lavoratori registrando un dimezzamento delle imprese attive. Un comparto, quello edile, è specificato nella nota che potrebbe essere rilanciato tramite la riqualificazione del patrimonio abitativo, l'edilizia scolastica e delle reti pubbliche ospedaliere o con la riconversione architettonica delle aree industriali e militari. Con l'intento di tenere alta la tensione su questi argomenti, si legge nella nota, è stato convocato per l'8 marzo prossimo un sit-in di CGL e CIS REWILL di fronte alla prefettura di Cagliari. Andiamo avanti. A più di un anno dall'avvio del programma Resto al Sud, sono 21 le richieste di finanziamento presentate nel sulci siglesiente per 74 potenziali posti di lavoro realizzabili. Complessivamente su 365 domande presentate in ambito regionale, già 132 sono state accolte e finanziate. Sentiamo. A oltre un anno dal lancio del programma Resto al Sud, promosso dall'agenzia statale Invitalia per favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali in Sardegna, sono 1.129 le domande di finanziamento presentate nell'isola tra le località dove si registra il maggior numero di richieste Cagliari al primo posto, con 96 domande per 5.408.154 euro di investimenti per 325 assunzioni previste. Mentre il Surchis si attesta al penultimo posto, poco prima del Medio Campidano, con sole 21 richieste per 1.170.946 euro di investimenti per potenziali 74 posti di lavoro creati. Sono oltre 132 i progetti già approvati in ambito regionale rispetto alle complessive 365 domande di finanziamento per 7.121.753 euro e 447 assunzioni dichiarate. Nello specifico, i settori ai quali è indirizzato il programma e sui quali si sono orientati i nuovi progetti imprenditoriali sono quelli del manifatturiero e dell'artigianato, ma anche del turismo, dei servizi alla persona, nonché delle costruzioni e dell'ICT. Quest'ultimo, molto importante e annoverato anche in ambito europeo, è tra quelli maggiormente in espansione e colmi di opportunità e potenzialità di crescita. Ci spostiamo a Iglesias, in apertura di questa seconda parte parliamo di rifiuti ancora al centro delle polemiche. In questi giorni sono in distribuzione nuovi kit per i rifiuti urbani con forti disagi per i cittadini costretti a lunghe file d'attesa. Se ne è occupato per noi Carlo Martinelli. Il nuovo appalto dei rifiuti avrebbe dovuto garantire minori costi per i cittadini di Iglesias. La notizia invece che nell'ultimo anno i costi sono aumentati di 300 mila euro ha fatto sollevare le proteste delle opposizioni in Consiglio Comunale. Per Valentina Pistis di casa Iglesias non c'è attenzione e non c'è verifica. Ci sono grandi carenze nel servizio, la città non è pulita, in particolare nelle periferie. Secondo la consigliera basta spostarsi dalle vie principali del centro storico per verificarlo. C'è una doppia responsabilità da parte dell'assessorato all'ambiente, aggiunge Pistis, in quanto chi lo dirige politicamente è la stessa persona della passata legislatura. Inoltre nell'ultimo anno il costo del conferimento dell'indifferenziato è aumentato di 300 mila euro andando a finire sulle bollette dei cittadini. Per Federico Garau del Movimento 5 Stelle la compensazione di questo incremento dei costi con la regolarizzazione di 900 nuove utenze iscritte a ruolo è solo uno piaceo per i cittadini. I disagi poi per gli stessi continuano al momento del ritiro dei kit per la raccolta con file e tempi di attesa incredibili. L'amministrazione ha inoltre dimostrato poca attenzione verso le categorie più deboli come anziani e disabili per i quali si sarebbe potuto prevedere una consegna a domicilio, aggiunge Garau, ma questi problemi si dovrebbero discutere nelle commissioni consigliari, quasi del tutto inesistenti. E torniamo a Carbonia. Il Comune ha emanato una nota nella quale informa che il Comando di Polizia Locale della Città ha ampliato la propria dotazione tecnologica con l'acquisizione di smartphone utili per lo svolgimento delle proprie funzioni. Grazie a questa innovazione gli agenti potranno così effettuare riprese fotografiche, girare video ad alta risoluzione e all'occorrenza consultare in tempo reale le banche dati informative e nonché velocizzare le comunicazioni con la centrale operativa del Comando. E chiudiamo questa seconda parte del nostro telegiornale con l'intervista che abbiamo realizzato insieme alla direttrice della Cernita Teatro Monica Porcedda in merito alle novità sulla stagione teatrale della compagnia a Bacquabis. Vediamo. Siamo in compagnia della direttrice della Cernita Teatro Monica Porcedda. Come sta andando la stagione teatrale? Sappiamo che ci sono delle novità importanti? Sta andando molto bene la stagione teatrale e abbiamo avuto davvero diverse adesioni sia da parte delle scuole perché la stagione terminerà il 7 di giugno e in tutti questi mesi ci saranno molte scuole del territorio che parteciperanno i mattinè però sta andando molto bene anche le domeniche abbiamo avuto diversi artisti e con diversi generi tra l'altro teatrali dal teatro circoscienza al teatro di narrazione abbiamo avuto tra l'altro un ospite molto importante Luigi Delia nel panorama del teatro ragazzi e proseguiamo però anche con le attività di formazione intanto abbiamo aperto un laboratorio dedicato ai bambini e sono ancora liberi alcuni posti abbiamo già fatto quattro incontri ma la novità della stagione teatrale è anche i cantieri creativi un progetto che coinvolge gli adolescenti dagli 11 ai 15 anni che partirà nel mese di marzo sono aperte le iscrizioni è un progetto che noi realizziamo grazie ai contributi della Fondazione di Sardegna che ha sostenuto la nostra stagione e tra l'altro anche grazie ai contributi della Regione Sardegna e dell'amministrazione comunale che comunque sostiene la stagione Bakuabis Teatro è un progetto cantieri creativi che coinvolge anche altre realtà tra una visione dell'arte, tra il manuale e il digitale non ci sarà soltanto la Cernita Teatro ma avremo con noi anche il Fab Lab soprattutto per gli aspetti dell'arte digitale avremo con noi lo scenografo e costumista Marco Natteri che tra l'altro ospiteremo anche il 24 febbraio con un laboratorio ed una mostra dedicata ai suoi 37 anni di carriera avremo con noi anche Maria Giulia Cironis che si occuperà soprattutto degli aspetti della mediazione artistica e della fotografia e poi lavoreremo anche sul suono sugli aspetti del suono e dell'illuminotecnica perché riteniamo che gli adolescenti possano esplorare il teatro anche sotto questi aspetti domenica 10 marzo replichiamo un lavoro del nostro spazio laboratorio e avremo con noi Matteo Leone che presenta il suo disco di esordio e per cui ecco una stagione che esplora tra il teatro, la musica e soprattutto dà spazio ad artisti del territorio che hanno ricevuto fra l'altro dei riconoscimenti importanti qualche evento per questa terza parte del telegiornale domani Carbonia ospiterà un importante dibattito organizzato dall'Auser Cittadina in collaborazione con Sardegna Solidale e Libera Sardegna sui temi della criminalità organizzata dal nome l'antimafia in Italia all'uso sociale dei beni confiscati alle mafie qualche dettaglio Carbonia ospiterà giovedì 7 marzo un importante dibattito organizzato dall'Auser Cittadina in collaborazione con Sardegna Solidale e Libera Sardegna sui temi della criminalità organizzata la conferenza dal nome l'antimafia in Italia l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie prenderà il via alle ore 11.30 presso l'istituto scolastico IPA Emanuela Loi di Via d'Almazia e si terrà nell'alveo delle iniziative organizzate in vista della 24esima giornata della memoria e dell'impegno e ricordo delle vittime innocenti delle mafie prevista per il 21 marzo prossimo all'incontro di Carbonia interverranno oltre alla dirigente dell'istituto Rosanna Sardu il referente regionale di Libera Sardegna Gian Piero Farru e Andrea Piras presidente dell'associazione Sardegna Solidale del comune di Carbonia domani mattina Villa Massargia ospiterà in anticipo alle celebrazioni dell'8 marzo per la festa della donna un incontro dibattito dal titolo partecipazione femminile plurale alla conferenza che prenderà il via alle 10 a Casa Feno parteciperanno la sindaca Deborah Porrà agli alunni e la dirigente della scuola media Franca Fara oltre a due organizzazioni femminili Sarde dal nome Coordinamento e Toponomastica Femminile durante l'incontro verranno presentati i libri di Maria Francesca Mandis e Luisa Marilotti dal titolo la doppia preferenza di genere risultati e prospettive il berretto a sonagli interpretata e diretta da Francesco Delisanti è una tragedia in forma di commedia che mette in luce l'ipocrisia della società e il lato scuro di ognuno di noi lo spettacolo è messo in scena da prosa cedac al teatro centrale di Carbonia nei giorni 9 e 16 marzo e a partire dalle 20 e 30 i biglietti si potranno acquistare dall'8 e il 15 aprile dalle 17 alle 19 e i giorni 9 e 16 dalle 10 e 30 alle 12 e 30 mentre la sera dalle 18 e 30 e con questa notizia è tutto il nostro telegiornale termina qui io vi ringrazio per averci seguito vi lascio adesso alle previsioni meteo e poi Noas in Curso il nostro telegiornale in lingua sarda grazie per averci seguito vi do appuntamento alle prossime edizioni del TG40 arrivederci